Invito sul palco il dottor Flavio Burgarella, medico specialista in cardiologia e fisiatria, responsabile del centro di riabilitazione cardiologica Istituto Tocquarenghi di San Pellegrino Terme, fondatore e presidente di Burgarella Quantum Healing. Il titolo della relazione è la fisica quantistica nella pratica clinica. Prego. Grazie gentile Marianne, Valentina, grazie mille di questa opportunità che è unica. Grazie Cangini che segue con noi, grazie Paola. Stamattina ho postato questo su Facebook, vediamo se riesco a mantenerlo, c'è da tutti i testimoni. Anche se mi date l'amicizia mi verrà piacere perché solo su Facebook si riesce a dare veramente momento per momento su quello che combina e quello che realizzi. Oggi, 23 novembre a Bologna, al congresso Saluscienza, patrocinato dalla Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi Odonto e Atri, è fondamentale questo per me per poter essere qua, per poter continuare ad andare avanti, a cento anni dalla nascita dei postulati della fisica quantistica, cercherò di spiegare come sia possibile portarli nella pratica clinica attraverso il mio metodo, Burgarella Quantum Mini, ci ho dato il mio nome, che presuppone la percezione consapevole. Non ho messo extrasensoriale, ma alla fine vedrete che ci sta questo termine. Percizione consapevole delle energie di informazione sottili, un quaglia non misurabile dagli attuali strumenti della scienza, ma del quale tutti, 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 possono fare un'esperienza pratica con un breve training. È la base di un percorso che porta ad un'espansione di coscienza per migliorare la salute. Ecco, vediamo se riusciamo a mantenere, io penso di sì. Sono stato tre anni fa qua, in questo splendido scenario, c'era un fisico quantistico che era in odore di Nobel, Albin Goswami, che ci stava insegnando i primi momenti, e lo ricordo bene come un maestro, perché l'entaglement, la discontinuità e la gerarchia intricata, o intrecciate che sia, sono le tre basi che io ho preso per portare nella pratica clinica i principi della fisica quantistica. Io sono un medico, sono un primario cardiologo, non faccio le punture, ma quasi, insomma, ho 30 pazienti ogni giorno che devo curare, sono capaci di usare i farmaci, e chiaramente non è così semplice condurre le due attività. Nell'intervista che Emanuele Cangini mi ha fatto sulla scienza e coscienza dell'altro mese, c'era questa domanda, come fai a conciliare questo? Niente, continuo a fare il medico che prescrive i farmaci, e mi diverto ogni tanto ad aiutare i pazienti così, giocando, perché portare la fisica quantistica nella pratica clinica è poco più di un gioco, un gioco molto bello, molto interessante. Da dove parte? Parte da lontano. Mia mamma mi diceva che lei aveva la corrente. Mamma, cosa vuol dire avere la corrente? No, io la mattina quando mi sveglio, verso le 5 e mezza del mattino, lei non sapeva ancora che magari entrava in risonanza con Schumann, con la risonanza Schumann della Terra, ma a quel momento lì io vibro, vibro, vibro. Ma dai mamma, cosa vibri? No, ho la corrente, l'ho portata allo psicologo, la fa un bravo medico, l'ho portata allo psicologo e non capivo assolutamente niente di cosa mi dicesse, neanche gli altri. Solo che lei poi ha fatto una morte un po' brutta perché? Perché sentendo questa corrente si portava una difesa all'energia e si contraeva, no? Io non ho capito nulla di mia madre fin quando una mattina ho cominciato a vibrare anch'io, a sentire la corrente anch'io. Ma cos'è, 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 non è, cos'è, poi ho capito una cosa che mia mamma non aveva capito, che se mi stanca perché sta diventando forte, è piacevole, non è quella correntina lì, è piacevole, però se si stanca e comincia a diventare forte, lei si trappiva, sapete cosa faccio io? Tiro fuori un piede fuori dal letto e gli dico vai, e la correntina va perché l'energia segue il pensiero. Pensa che medico somaro, che sono stato per tanti anni senza riuscire a capire cosa mia mamma mi stava dicendo in quel momento. Andiamo avanti un attimo, siamo a Dakar, qualche anno dopo, siamo al congresso africano di cardiologia. Niente, io sono lì a un certo punto, che guardo l'oceano, sono lì con le due mani così, e a un certo punto si muove un qualcosa nelle mani, un qualcosa, dove è sempre difficile informare, si muove un qualcosa nelle mani. E mi divertivo a farlo andare, orario, anti-orario, orario, anti-orario, spin up, spin down, spin up, spin down, ma pensate come gira, come voglio farlo col pensiero. Ma sono capaci solo io? Il maghetto? O sono capaci tutti? Questa era la sfida, se fossi stato capaci solo io era zero la cosa. Invece ho capito che pian pianino tutti sono capaci di percepire a livello extrasensoriale questo movimento energetico, che poi gli diremo delle classificazioni. Insegno questo in seminari, in workshop, a livello nazionale, internazionale. Cosa bella che farò il 6 dicembre a Dubai, al congresso mondiale di cardiologia, parlerò come questa pratica clinica può portare il paziente, dopo un infarto del miocardio, esce dall'angioplastica, si fermi magari un attimo da sola e vediamo se riesce a rigenerare le cellule cardiache, invece di mandarle in cicatrice, le mandiamo in miocardiocitis e ci diamo un'informazione energetica consapevole. Questo ovviamente è un grande tema. Per fare un quadro di cosa vi sto dicendo adesso. La prossima, la prima diapositiva per favore, faccio io? Sì, col passaslide. Ok. Viviamo nei tempi in cui stanno cadendo le certezze del vecchio mondo e non sappiamo che caratteri avrà ciò che sta faticosamente nascendo. E' questo il contesto che prima dell'uomo e il suo destino diventa centrale. Non a caso si parla di un nuovo umanesimo, perché l'umanesimo ridiventa attuale ogni volta che si apre all'interrogazione sulla condizione dell'uomo e il suo destino. Un nuovo umanesimo bioquantico, con l'applicazione della fisica quantistica nella età di tutti i giorni, chiaro che comporterà ricaduto in campo medico per quanto mi riguarda, ma certamente anche in altri campi. La mente quantica è la dimensione non locale che ci permette di vivere la vita come se tutto fosse un miracolo. La mente quantica utilizza la consapevolezza come il motore primo di tutto ciò che conosciamo in modo di vivere la realtà attraverso tutte le possibilità esistenti. La consapevolezza deve essere però focalizzata. Un fascio di biofotoni che partono dal pensiero. Un patrio energetico strutturato sull'intenzione. Come possiamo vedere il corpo fisico? Come un corpo ma anche come uno schema di informazione. di onde connessi in un ologramma che con l'intenzione possiamo modificare in quanto siamo all'interno di un campo di torsione. Il cuore è un campo di torsione, gli altri non hanno campi di torsione, nell'universo sono campi di torsione, cioè un campo di informazione rappresentato da questa forma di energia e di informazione sottile. Il mio metodo, che è un metodo depositato adesso, si basa sul respiro centrato sul cuore. Questo ce l'ha insegnato Armat. Si mette in correlazione il cuore e il cervello, ma molto semplice. Poi una volta che lo fai non devi stare lì a perdere tanto tempo. Mentre si provano sentimenti di accettazione relativa all'apprezzamento, alla gratitudine, alla compassione e alla cura. Allora ancora una volta, respiro, sentriamo sul cuore e proviamo questi sentimenti. Andiamo a vedere se qualcuno riesce a sentire il movimento del cuore, state attenti ragazzi, il movimento del cuore quando cerca di andare in coerenza. Mi date dieci secondi. Portate la consapevolezza al cuore. Paola cosa senti? Allora, più avanti quanto sarete più bravi, ho 40 minuti e vi ne arrivo, lo sentirete come una specie di culla. Una specie di culla che sta mettendo in coerenza il cuore e il cervello, la si può misurare come col alter attraverso la heart rate variability. Però una volta che tu impari il training, ti metti lì e giochi, ma diventi coerente subito. Dopo poco tempo si entra in automatico nel campo del cuore, che può essere apprezzato con la percezione BQH. Il mio oratore precedente mi ha fatto un parente sulla percezione che lo ringrazio, perché passiamo proprio in questo punto. Movimento oscillatorio a culla, costituito da due antipidi, oscillazione relativa, sisto diastolico del cuore. Provate ancora un attimo che voi qua siete vicini. Io muovo il cuore, sisto diastole. Armato lo fa così. Mette il respiro, porta il respiro al cuore. Inspira, 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 inspira. E apporta apprezzamenti di gratitudine, di gratitudine, di compassione, di cura. Ma lo fai in tre secondi una volta che sei capace. E ti porta che cosa? Un leggero stato alterato di coscienza. Anche io mi interessa un attimo di ipnosi, con Pareth, Benemeglio, Russo, sono tutti amici e si sta lavorando molto bene in questo campo. Perché? Perché anche questo ti può portare a uno stato di coerenza cuore-cervello se sei capace di entrarci. Il campo del cuore ha una forma torica e è rappresentato da un campo di torsione. Nella sua composizione spin up e sin down. E questo è un campo che ha probabilità di propagarsi nello spazio e di interferire con gli oggetti materiali per lo scambo di informazione. Dimorando nel campo del cuore. Si dimora in un campo quantico, in una realtà del potenziale limitato. E questo campo ha caratteristiche morfogenetiche. Per quello che voglio arrivare alla rigenerazione cellulocardieca. In quanto si localizza all'interno e tutta l'intornità morfica al cuore, nel quale ne organizza la sua caratteristica e l'attività. Ecco, io vengo qua però, ho avuto tanti amici, Rupert Shendrach, ne abbiamo parlato sulla risonanza morfica. Per quanto riguarda la coscienza, è la seconda volta che parto a Tucson e a San Diego in California con Amarov. Cioè, ci siamo dentro, cerchiamo di capire bene dove stiamo andando. L'apprendimento è un processo interattivo durante il quale i ricettori sensoriali fanno da interfaccia tra la mente e l'informazione derivante dal mondo esterno. La percezione tattile, la pelle con i suoi corpuscoli, quel bellissimo libro che parla della dermatologia e che è pubblicato la macrolibra, ci spiega tanto sui vibrocettori che stanno alla base di quello che sto vedendo io dal punto di vista anatomico. Se allenati, conferisce una nuova caratteristica al senso del tatto. Lo mette in contatto attraverso la seconda attenzione con i biocampi magnetici umani che essendo sostanzialmente campo di intersione hanno caratteristiche di informazione. Poi vedremo cos'è la seconda intenzione, vedremo come fa la seconda intenzione a capire i campi magnetici umani. Allora, la percezione tattile, qui si deve alla percezione in senso orario e antiorario del campo magnetico del cuore a livello del palmo o dalle mani, essendo i due campi del cuore e dalle mani correlate. Questo lo facciamo subito, così se non facciamo pratica non capiamo niente. Allora, vogliamo giocare? Allora, giochiamo. Mettiamo i piedi per terra con il ripiante belle e giuste perché qualsiasi posizione di meditazione o meno deve essere una posizione regale. Solo così si riesce a trasmettere le informazioni. Io adesso vi dimostro che il campo del cuore non è quel toroide di tre metri che arriva, ma andiamo fino in fondo. Chi è che vuole venire qua un attimo? Dai! Allora, perché prendo questo signore? Puoi girarti un attimo? Perché io adesso muovo il campo magnetico mio, con la mano, e lui sente un movimento circolare orario-anti-orario. Orario. E adesso? Anti-orario. Ok, grazie. Questa è l'iniziazione, siamo tutti iniziati ragazzi, vedete che è un gioco. Grazie. Allora, adesso proviamo. Vedete che io muovo il campo del cuore e non è un toroide di tre metri, ma arriva fino in fondo, perché è un campo di torsione, e quindi di informazione. Perché lo riesco a farlo a tutti? Perché i chakra delle mani, chiamiamoli con questo nome, o comunque i campi biomagnetici delle mani, sono in correlazione con i campi del cuore. Allora, mettete le mani tutti così un attimo. Non appoggiate appena appena. Perfetto. Ci siete tutti anche in fondo? Ok. Portate la consapevolezza, perché è sempre la consapevolezza che si tratta, a livello del palmo della mano. Ok? Io adesso, pian pianino, muovo il campo del cuore e voi dovete percepire un movimento armonico a livello del palmo della mano. La pratica clinica della fisica quantistica si va verso tutto su questo. Su questa percezione. Ok? Portate la consapevolezza al palmo della mano. Io inizio a muovere il mio campo toroidale del cuore. Pian pianino, è la prima volta, ci vuole un po' di tempo, ma già i più esperti lo sentono. Chi lo sente, fischi. Bravi. Orario o anti-orario? Orario. E adesso? Le donne e i maschi possono essere diversi. Ok? Va bene tutto. Avete percepito? Ok, questo è un gioco? Mica tanto. Questa è una percezione extrasensoriale che prima non avevamo mai provato, che ci apre la strada alla pratica clinica della fisica quantistica secondo il mio metodo. Burga da Comantuini. Vedete? Che cos'è allora che è andato così lontano? L'avete sentito anche in fondo? Io credo che questo è un campo del cuore ma non sia il toroide che ci fanno vedere. È un altro campo, i campi del cuore si formano tantissimo, i campi si formano, vanno e vengono. Io credo che questo sia un campo tra la deossi emoglobina paramagnetica che si trova a livello dell'atrio sinistro e dell'atrio destro e del ventricolo destro. Quando si muove in questo modo è possibile che crei un campo che è completamente diverso da quello che Armazzi ci insegna, ci fa insegnare. È tutto da vedere. Allora, se noi acquisiamo la capacità percettiva BQH e l'avete fatta tutti, ormai ci siete, cioè il nostro cervello ha formato due sinapsi i neuroni hanno conosciuto queste sinapsi, più si va avanti, più si crea un connettoma che può essere messo tra un connettoma di guarigione. Very simple. Cioè è così che funziona, come diceva lui, il mente e il cervello e il cervello. E la mente che condiziona il cervello andare avanti. Sì, lui risponde, il follo, cosa può fare, poverino? Ha sempre fatto così nell'evoluzione e continuerà a farlo. Allora, siamo a uno stato di entaglement, perché? Con questo giochino, mia moglie, abbiamo partecipato al congresso di parapsicologia di Londra di due o tre anni fa, avanti e indietro, avanti e indietro, cento volte, l'hanno dominato 90, insomma, capisci? Eravamo a 30 chilometri. Sarà un entaglement un po' zoppo, è il mio, ma comunque funziona, perché le risposte sono state quelle lì. Questo entaglement si collega ai campi torsionali della consapevolezza primordiale, quello che lo faccio vedere più tardi. Quella consapevolezza che sta prima dalla mente e dalla materia, quello che ci diceva Dean Radin quando parlava della consapevolezza primordiale. La possiamo chiamare ordine implicato di inconscio collettivo quello che vuoi, più o meno siamo abbastanza lì. E ottenere il processo di trasformazione, perché quando tu parti da uno stato di realtà e ne vai a finire in un altro, attui quello che è una trasformazione. Nella percezione BQH, Urgala Quantuming, in campi frontofisi della risonanza, dell'entraiment, cioè del processo fisico mediante il quale due sceltemi oscillanti interagenti assumono lo stesso periodo, che io lo chiamo il copy and colla perché è troppo bello. Attraverso il copy and colla tu puoi copiare un'informazione di salute e trasferirla su un'informazione di malattia. Non so cosa succederà perché non sei tu che poi fai le cose, tu però utilizzi un metodo, apri uno spazio di coscienza e le cose possono avvenire. Copy and colla è bellissimo, mi piace troppo. E anche della coerenza quantica perché con la risonanza poi devi andare a finire in uno stato di coerenza e come una corrente elettrica in movimento genera un campo magnetico, un campo magnetico variabile che è quello del copy and colla, è in grado di creare una corrente elettrica in un conduttore elettrico che si trova nella sua zona di influenza. È il normale principio fisico dell'induzione elettromagnetica. Con il copy and colla and tryment che poi faremo insieme, si genera un campo magnetico variabile è in grado di condurre elettricità in un conduttore. Modificando il campo magnetico cambio la corrente crea un potenziale d'azione e può dare energia ai pensieri. E forse questo è uno dei sistemi per cui l'intenzione quindi corrente elettrica che passa nei neuroni può fermare un pensiero coerente un pensiero coerente a un effetto laser. La consapevolezza della percezione BQH che voi avete avuto consapevolezza può favorire l'autoguarigione se riusciamo a dimostrarlo non è poco aiutare i pazienti a loro attraverso la loro pratica favorire la loro guarigione. Ora sta a noi migliorare questa possibilità nel senso percettivo utilizzando la probabilità che la fisico artistica ci offre. La consapevolezza e la percezione qui c'è il wifi gratuito alla portata di tutti questo mi piace perché è bello questa cosa qua che sia una cosa che sia per tutti che ci permette è gratuito ma per forza che ci permette di entrare in contatto con le proprietà quantiche della mente stabilendo così nuove connessioni neuronali a favore della plasticità del livello migliorando il nostro connettoma di guarigione. Cosa abbiamo prima del pensiero? nulla il nulla dal quale il pensiero deriva se noi siamo consapevoli della consapevolezza del nulla e ci arriviamo anche qua dimoriamo in uno spazio di coscienza potenziale dove tutto energia è primordiale prima che possa ancora svilupparsi il pensiero che dal nulla emerge è un pattern di energia pura più o meno coerente a seconda dell'intenzione e dato che i DNA non codificanti tutte le cellule emettono spontaneamente i biofotoni coerenti se arriva un biofotone coerente dal nulla emerge potrebbe essere cosa succede qua sotto? Ve lo dico io c'è un quadro di interferenza c'è un quadro di interferenza costruttiva tra il pensiero che tu dai e il DNA che emette i suoi biofotoni continuamente quando c'è questa interferenza costruttiva è possibile che il DNA non codificante passi un'informazione un'intenzione di guarigione al DNA codificante il quale fa le sue proteine Burgio qua ci dirà meglio come succede la cosa secondo meccanismo wifi viene trasmesso nello spazio qua si parla di non località del distant healing nel vuoto quantico dove entrerà il GPS della non località rappresentato ad uno spazio di coscienza e corrisponde al collettivo di Jung questo bisogna ovviamente fare pratica se no non si capisce nel mio workshop giochiamo a fare questa cosa qua l'intenzione di guarigione che arriva sicuramente arriva non siamo noi che guariamo ma noi trasformiamo teletrasportiamo l'informazione questo ve lo prometto come dicevo il biofotone del DNA ricevente è il pattern di interferenza è il risultato di un'informazione teletrasportata ok ecco questa a un certo punto si può rendere attivo il generatore di causalità che ci porterà il pensiero sincronico che ci può aiutare un attimino questo è importante quando noi attuiamo questo pensiero cosa succede il nostro cervello individuale è un inconscio collettivo luogo di esperienze e memorie secondo il passato e il futuro si fondono col presente in questo caso la mente tramite il senso percettivo sviluppato attraverso l'allenamento della percezione di movimento di energia armonico o disarmonico allora il palmo della mano avrà la capacità di percepire il passato memoria e il futuro precognizione è un messaggio epigenetico andiamo a vedere se riesco allora a farvi capire bene questa cosa qua perché la coscienza sta dove tu vuoi che stia David Bond definire l'universo un sistema dinamico e in continuo movimento un ordine spaziale atemporale ipotizzando che nell'universo ci sarebbero due forme di manifestazione di realtà e due sue forme di organizzazione l'ondine implicato non visibile paralogabile un ologramma la crostura complessiva si rispecchia in ogni singola parte e l'ondine esplicato quello che osserviamo con i nostri sensi è il risultato dell'interpretazione che il nostro cervello ci dà Bond ritiene che la coscienza sia la forma più sottile di materia e la base di qualsiasi relazione fra le due coscienza e materia sta nell'ordine implicato non implicito la coscienza sarebbe presente in tutta la materia sarebbe la coscienza costruire spazio e tempo poiché è capace di creare fenomeni nel mondo fenomenico agendo solo matrice generativa per voi non solo materia non esisterebbe nello spazio vuoto ma lo spazio non è vuoto pieno infatti tutte le particelle sono anche onde dunque gli oggetti possono essere interpretati come materia o come sistemi di interferenza viene messo in discussione il tradizionale concetto di tempo il passato e il futuro sarebbero risolue perché copresenti con il presente allora ci sono due funzioni d'onda quella dell'equazione del passato e l'equazione del futuro le quali si incontra un unico punto il presente che è l'unica soluzione geometrica della realtà virtuale questa ce la dice boh ma noi come possiamo poi metterla in pratica se non abbiamo un qualcosa di pratico che ci può far capire e che cos'è quel qualcosa di pratico che ci può far capire l'unica cosa che abbiamo di pratico noi oggi l'esperienza della percezione di quello che abbiamo avuto adesso una percezione extrasensoriale che ci aggancia tutta la teoria di Bohm alla pratica perché se no non riesci a capire sono contento che c'è scritto così e chi se ne frega insomma se non riesci poi a metterla in pratica se invece riusciamo a metterla in pratica vedi che diventa molto interessante la cosa qual è quell'unico punto sta dove sta la coscienza se la coscienza si sposta nel passato il passato diviene presente perché quello è il punto in cui le equazioni d'onde si sommeranno se si sposta nel futuro posta il presente con sé nei workshop e qualcosa ne riusciremo a fare anche noi ad esempio se qualcuno ha un dolore all'anca o qualcosa me lo dice poi proviamo a fare sto giochino per vedere se passa lontano non ha nessuna importanza e questo è quello che dobbiamo fare noi avere la percezione nella mano destra di un biocampo di salute magari presente il 3 gennaio 2015 è una percezione armonica come quella che avete sentito voi prima e avere nella mano sinistra il campo con la seconda attenzione con l'Uma scanner la percezione del campo adesso malato ovvio che saranno due percezioni diverse quella del campo malato avrà un blocco energetico non sentirò tanto bene sarà così quella normale se la senti bene che gira normalmente come quella avete sentito voi lì riesci a fare il coppia e incolla con un piccolo trucchettino ma in questo modo tu riesci a sicuramente non sbagliare perché io dico io adesso percepisco ma lo dice boh non posso sbagliare esattamente la percezione del campo elettromagnetico del pancreas dalla filomena il 3 gennaio del 2015 quello è se no questo postulato non vuol dire niente perché se la coscienza deve essere lì lì deve essere e lì è perché poi tu vedi che quando fai il coppia e incolla trasporti questo qua del 2015 adesso il 2018 il dolore va via dai andiamo avanti ragazzi mi vedo un po' perplessi ma credetemi andiamo avanti allora Borreale quando vi porta nella pratica clinica i principi della fisica quantistica utilizzando una tecnologia della coscienza è una tecnologia della coscienza questa che opera entrando nella consapevolezza del nulla nello spazio tra due pensieri che equivale alla consapevolezza primordiale che prevale tutto che esiste prima il tempo dello spazio lì dimora la parte trascendente della mente la parte trascendente della mente fa quello che vuole trascendente scusa che può essere così facilmente raggiunta in questo modo si entra nel campo quantico delle possibilità esistenti dove puoi ottenere tra infinite possibilità quella desiderata se poi volete ho là qualche libro mio di questo qua un volume che io ho fondato questa associazione che si chiama Burgarella Quantum Healing questo libro viene dato gratuitamente agli iscritti all'associazione che sono 25 non pretendo che voi vi iscriviate però col consiglio di amministrazione ho detto se gli diamo a un prezzo più abbordabile il libro ai ragazzi fanno quello che vogliono e diventa comunque patrimonio della nostra associazione andando il nome ovviamente è gratuito ma non è questo era per farvi vedere che ciò è scritto è scritto questo sta scritto anzi se andate a vedere un mio una mia platform pensate uno ha l'email uno ha il sito web io sono platform sono servotto siti web che stanno che stanno andando avanti assieme per portare avanti queste cose entrano nel campo delle possibilità esistenti allora l'interazione mente-materia nella terapia epigenetica mi resta l'importanza dell'informazione epigenetica cioè l'influenza del pensiero che è un'energia informata quello che siamo noi è energia informata consapevole questo è anche piaciuto a Mariana e ai redattori della rivista perché è stato messo noi siamo energia informata consapevole quando lavoriamo con BQH lavoriamo in questo modo tra teletrasportiamo un'energia informata ma consapevole perché utilizzando la coscienza devi essere consapevole di questa cosa e tu sei consapevole perché la senti hai avuto la percezione se no non puoi essere consapevole tale prospettiva ci proietta nel campo delle possibilità quantiche in unità col tutto portare nella pratica cliniche principi della fisica quantistica l'entaglement la discontinuità e la gerarchia intrecciata e intricata l'entaglement ve l'ho detto com'è com'è per me il mio entaglement di provincia bergamasco movimento del campo del cuore che io muovo consapevolmente ma tutti sono capaci di muovere consapevolmente perché la cosa bella siete convinti che sono capaci tutti di muovere consapevolmente adesso vi faccio vedere che è vero però torniamo ancora un attimino perché non voglio farlo io chi l'ha percepito bene prima chi l'ha percepito bene il movimento lei ok come si chiama lei no no stai lì stai lì la distanza non conta Claudio allora io adesso muovo il campo della moneta del cuore come prima ok orario anti-orario poi vi dico poi dico a Claudio di cambiarlo lui il movimento non io e con che cosa lo cambia lui con il pensiero perfetto l'entaglement introdotto nel campo del cuore la discontinuità è quella che facciamo per avere la trasformazione tra la gerarchia intrecciata non riusciamo questo qua siamo nel campo del satanam di gururandash 1600 questo riesce a portare questa cosa allora la trasformazione va bene dobbiamo fare questa trasformazione dobbiamo entrare nello spazio sacro delle antiche tradizioni culturali in uno spazio dove viene a formarsi continuamente l'energia come posso raggiungere questo spazio entrando nella consapevolezza del nulla quale è presente il tervallo tra i due pensieri allora come si può fare a entrare nella consapevolezza del nulla mi insegno due non posso insegnarvi tutte queste cose in 40 minuti allora state attenti entriamo nella consapevolezza del nulla perché la consapevolezza del nulla è quella che mi cambia entra in uno spazio un spazio universale allora provate un attimino vediamo un po' come farvelo a fare ok ok state allora chiudiamo qua se riusciamo consapevolezza del nulla copia e incolla ci vuole una persona che abbia un dolore o qualcosa vieni 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 allora state attenti lo facciamo tutti eh tutti lo facciamo che cosa c'hai? oh da due anni in questa parte una peritrocantrite no 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 quando stiamo facendo i medici oh perché se tu porti al fatto che utilizzi il tuo cervello sinistro per dire peritrocantrite non c'entra non vai più non devi più devi ho male qua oh da due anni oh ok allora io faccio una cosa tanto anche se non riesce non è colpa mia ovvio perché io lo porto in un campo di probabilità esistenti ovvio noi trasportiamo un'informazione se però passa non devono anche tanto essere contento perché se no non funziona più il gioco se vai nelle aspettative però giochiamo allora dai tu tutti assieme Anca qui sinistra sinistra ragazzi ragazzi non so se riuscite però allora tutti assieme con la mano tutti assieme con la mano sinistra portiamo no no portiamo la percezione no no così una mano sola una mano sinistra una sola portiamo la percezione a livello dell'anca sinistra di Giancarlo ok chiudiamo gli occhi adesso stiamo lavorando con la mente quantica stiamo lavorando con la seconda intenzione che non ha giudizio non ha nulla ognuno percepisce quello che vuole percepire ok mantenete nella vostra consapevolezza conscia questa percezione ok poi adesso andate con la mano destra alzate la mano destra io metto il microfono in tasca mantenete la percezione con la mano destra andate a percepire il movimento dell'anca di Giancarlo di quando di quando era sano cioè dice che è due anni che è malato quindi andiamo a finire nel l'uno del 2016 fammi sentire come l'uno del 2016 com'è che lo sentite ragazzi muove bene gira bene gira bene bravo allora stai attento mantenete le due posizioni quella sinistra che è fisso vedete che non gira bene e quella destra che gira bene adesso io vado nello spazio tra i due pensieri vedete come cambia questo è il copio in colla basta che mi dica solo vai ok l'intenzione era quella che andava così adesso sta girando vedete che è cambiato vedete che sta girando nella mano sinistra ok sta girando la mano sinistra troppo veloce diamogli un piccolo una piccola cosa introduciamo un po' l'elemento terra della medicina di vetano vedete che c'è adesso mi piace dove vi piace bene ragazzi ok chiudete andate a bere un caffè perché adesso sta lavorando la coscienza universale noi non ci entriamo più chiuderei qua grazie domani ce lo dice grazie grazie